Ed ecco qui un'altra immagine tipica di quando... Vabbè, per cui non dobbiamo invadere nessuno, ci mancherebbe altro. Se la sala stampa sopra, se mi affaccio, se c'è qualche intervista. Sì, tante persone che gioiscono con me, ma naturalmente, come ho detto prima, il sindaco sa benissimo che il ruolo è quello istituzionale del sindaco di tutti, che non è banale dirlo, ma è così. Sì, le competizioni elettorali si vingono e si perdono, nel caso nostro l'abbiamo vinta. Adesso dobbiamo metterci al lavoro subito per mantenere le promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale. Una grande emozione, ricordiamo tanti giovani nella sua squadra. Tanti giovani, tante donne, donne, persone nuove, una grande voglia di fare, un grande entusiasmo che penso che sia quello che ci ha dato la spinta per poter vincere anche al ballottaggio. Una battuta anche così, diciamo, simpatica. Un'intervista lei, il mese scorso, mi diceva che una delle prime cose che avrebbe fatto è ripristinare lo sparo del cannone. Lo facciamo risparare questo cannone? Allora, io non l'ho detto prima, ma mi sembra di aver visto vicino a me, ho salutato prima Marco Lange, non so se c'è ancora. Sì, è un impegno che ho preso, avevamo raccolto oltre mille firme e chiamerò subito Marco per capire se si può sparare sin dai prossimi giorni il cannone. Perché in realtà so che c'era qualche problema nella Colubrina, che non so se c'è ancora. Per cui da domani, comunque è un impegno che ho preso con migliaia di cittadini e lo manterrò. Grazie.